Anche il nostro ospedale ci avete tolto tutto, quello che ci resta, l'ospedale dei Recanati, Tramonti, Spacca e le vostre decisioni ci avete tolto tutto, il governo Monti con il suo decreto sta massacrando i lavoratori, sta massacrando i pensionati, sta massacrando il centomiglio, il presidente Spacca, presidente del consiglio, presidente della regione Marco, ha aumentato a 300.000 euro gli stipendi dei mega direttori della sanità, grazie a un mio rendamento pochi mesi prima l'avevamo ridotto del 50%, lui l'ha rimposto la legge di assestamento di bilancio, è una vergogna, i soldi non ci sono, ma ci sono per chi fa comodo, ci sono per i propri amici, ci sono per le persone da essi stessi nominate, è una vergogna, i soldi non ci sono per l'ospedale dei Recanati, però per pagare 300.000 euro a tanti mega dirigenti, mega direttori della sanità, 300.000 euro all'anno i soldi si trovano, si toglie la gratuità degli integratori alimentari agli anziani che stanno morendo.